Ogni volta che esco per farmi gli stracazzi miei, vi dicono sempre la stessa cosa. La fase 4 fa stracagare! Coglione inutile! È il momento di renderla più interessante. Assicurati che gli uomini restino brutti e cattivi, mi raccomando. E che ci vuole? Stiamo davvero copiando da Giovanni! Non ci fermeremo. Ogni cosa dovrà ricordare il nostro prodotto di punta. Guardiani della galassia. Non importa su quanti dipendenti cammineremo. È come quando giocavamo all'elementare. Non importa mantenere promesse di serietà. È tutto un circo di effetti speciali e attori di rilievo in ruoli marginali. Così da poterli eliminare in caso venissero accusati di molestie. Il mio potere è quello di rendere indispensabile ogni cagata in cui mi trovo. Tu puoi dire lo stesso, Ant-Man? Ho detto! Il mio potere è quello che abbassa... La musica! Il mio potere è quello che abbia fatto. Il mio potere è quello che abbia fatto. Il mio potere è quello che abbia fatto. Il mio potere è quello che abbia fatto.